La danza contemporanea torna ad animare le ville e i luoghi più belli dell'Abrianza. Giunta la decima edizione, la rassegna Caffeine Incontri con la Danza proporrà una serie di spettacoli con ospiti di fama internazionale dal 14 settembre al 12 ottobre. Gli spettacoli saranno una decina, si svolgono dal 14 settembre a Robbiate fino al 12 ottobre a Osnago. Ci sono spettacoli più acrobatici, spettacoli per bambini, spettacoli invece più astratti, spettacoli più di impegno politico e civile ma sempre all'insegna di quelli che sono i linguaggi del corpo, della fisicità e della danza. Cito su tutti la compagnia Ducto spagnola con lo spettacolo Cafuné, avremo Abubassam Diab dal Libano, avremo ancora Naturalis Labor, la coreografa Silvia Bertoncelli che è una giovanissima e stupenda coreografa e tante altre compagnie a seguire che troverete sul programma. Non lo proponiamo nei teatri ma lo proponiamo in parchi, ville, giardini, nei luoghi più belli che abbiamo qui in Brianza per cercare di avvicinarci il più possibile a tutti quanti e cercare di vedere questi spettacoli. Novità di quest'anno è la possibilità di prendere parte a laboratori di formazione aperti a tutti, con particolare attenzione alle famiglie e agli over 60. Possiamo avvicinarci a questo linguaggio seguendo uno dei quattro laboratori che seguiamo, sono dei piccoli incontri di un paio d'ore rivolti sia ai bambini che ai bambini con genitori insieme che a persone over 60 per assaggiare, per iniziare a conoscere da vicino e concretamente che cosa sono queste cose. La rassegna coinvolgerà diversi comuni delle province di Lecco e Monza-Brianza, uniti per la promozione di arte e cultura sul territorio. La cosa importante è appunto la collaborazione tra comuni, comuni anche di una certa entità, comuni che credono molto nello sviluppo culturale e in queste arti che sono arti non minori ma comunque arti molto contemporanee e che sono anche una novità sul territorio. Sicuramente il fatto che sono dieci anni che questo festival viene realizzato vuol dire che comunque c'è molta consapevolezza da parte delle amministrazioni e anche del pubblico che comunque è un pubblico che segue in modo molto attento ed interessato tutti gli eventi che vengono organizzati.